Cesare Pizzola, segretario FIOM Modena, oggi siamo qui alla SAGEMCOM, cosa sta succedendo? Sta succedendo che da ieri i lavoratori hanno ricevuto una comunicazione dove l'azienda ha deciso che dal 26 di novembre il loro posto di lavoro non è più a Campogagliano ma è a città di Castello Perugia con la conseguente chiusura dello stabilimento qua modenese e questo chiaramente non può essere accettato, i lavoratori da subito sono in presidio e abbiamo mosso le istituzioni, oggi sono presenti qui con noi anche il sindaco di Campogagliano per chiedere un incontro urgente per far tornare sui suoi passi un'azienda che ha preso una decisione che non è utile né per i lavoratori ma soprattutto per tutta la comunità Di quanti dipendenti stiamo parlando? Stiamo parlando di 34 dipendenti diretti più 11 interinali Un fulmin al Celsereno anche per l'amministrazione? Sì, l'abbiamo imparato giusto 24 ore fa, ci siamo attivati subito tramite l'assessorato alle attività produttive e vi devo dire anche che c'è molta arrabbiatura non è la prima, per fortuna non succedono spesso qua a Campogagliano ma non è possibile questo modo di lavorare che non sempre ma spesso hanno le multinazionali deve anche fare riflettere magari preventivamente chi intende delle nostre aziende italiane e locali di fare dei trasferimenti o delle vendite alle multinazionali Giussi, una dipendente della Sagemcom, siete qui ovviamente a protestare, fulmina Celsereno, quali sono i prossimi passi e soprattutto in che situazione si ritrova lei? Allora, diciamo che io lavoro qui da tre anni, è stata una situazione che fino a un anno fa andava per il meglio soltanto che da un anno si sono stravolte un po' le cose, ci siamo ritrovati da soli ci siamo ritrovati senza avere un caporeparto, qualcuno con cui ci potevamo rivolgere abbiamo lavorato tanto, abbiamo lavorato bene, però tutto questo non ci è stato dato merito non ci è stato dato un ringraziamento ma ci sono stati dati sempre calci nel sedere se si può dire adesso ci siamo ritrovati come hai detto tu con un fulmine a Celsereno dove dobbiamo decidere per loro cioè per chi ha fatto questa scelta di trasferirsi a Città di Castello e per chi ha una famiglia deve decidere a più presto perché è venerdì, cioè fra tre giorni deve dare appunto la conferma oppure la distetta per andare o meno a Città di Castello. E nessuno vi ha mai detto o citato niente del genere che vi dovevate trasferire o che c'era questo trasferimento in programma? No, nessuno ci ha mai detto niente, ieri abbiamo avuto una riunione dove alla fine ci hanno detto questa cosa qui ovviamente per chi ha famiglia, per chi tiene dei bambini, dei figli piccoli, per chi come è successo nella nostra azienda c'è anche una ragazza che è in gravidanza, deve stravolgere la vita di lui stesso, della ragazza, dell'uomo in generale della famiglia nell'arco di tre giorni e quindi credo sia una cosa impossibile Diciamo che dovrebbe essere una scelta anziché un obbligo Esatto, dall'altra parte non abbiamo neanche una retribuzione che vale la pena farlo cioè per 1100-1200 euro secondo me non ne vale la pena trasferirsi, trasferire la famiglia, i bambini e lasciare tutto